Ok ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti su Crusader's Kings 3, gioco che ho da un bel po' di tempo, ho giocato abbastanza per fatti miei, però non lo tocco da decenni, mi sono detto, ma quasi quasi lo porto, perché no? Non saprei bene con cosa giocare, a me piace solitamente iniziare con qualcosa di piccolo e poi espandomi dall'insomma, quindi mi piacciono un po' le sfide, ecco. Però adesso guardando la mappa, Napoli l'ho giocata per fatti miei, ero tentato di portare Napoli come aha, però ho tentato anche a questo punto, guardando un po' qui la mappa, di magari iniziare come musulmano in Sicilia, oppure qui in Calabria. Diciamo, l'idea mi attizzava parecchio, anche perché come cattolico praticamente ho già giocato, però come musulmano non l'ho mai fatto e ritengo potrebbe essere interessante, soprattutto considerando, diciamo, il territorio nel quale siamo qui. Certo, Shaco, ah tra l'altro, shout out a coloro che hanno tradotto il gioco in italiano, vi lascio magari il link in descrizione, l'ho applicato la mod proprio per voi e per la serie, insomma. Allora, io qua non saprei bene con chi giocare, però, voglio giocare con qualcosa di piccolo, magari lo Shaco di Agrigento e poi da lì vedere di fare qualcosa di più grande, perché lo Shaco è più piccolo dell'Emirato, in teoria, perché l'Emirato è tutto questo, ok? Io direi iniziare come Shaco di Agrigento, difficoltà, nessun erede, quindi già qui si comincia bene, insomma. Fiduciosi, impazienti, sadico, ok. Va bene, direi di giocare a difficoltà normale, anche perché, sì, va bene, c'era normale, molto facile e facile, quindi direi di sì. Direi Shaco di Agrigento, via. Allora, tuo figlio Umar, vabbè i nomi, figuriamoci, è il tuo nuovo erede. Anzi, ci proviamo, Umar Ibn Agdunid, ok, sì, la mia pronuncia è molto, aha. Ok, abbiamo i stili di vita, questo me lo ricordo. Iniziamo con la diplomazia. Grazie alla tua educazione in campo diplomatico, ad ogni 20% in più di esperienza in questo stile di vita. Per questo punto, già che abbiamo una base, direi di sfruttarla. Allora, qui devo rileggermi un po' tutto, perché chi si ricorda... Non si possono mai avere troppi amici. Diplomazia più 3, poco sugli affari. Diplomazia più 1, più prestigio, sulla maestà. Mettiamo la fertilità, visto che non abbiamo eredi, a mio parere. Penso sia la scelta più giusta da fare. Bene. Poi, non sono neanche sposato, ma mi ha detto che non ho eredi. C'era scritto così, c'era scritto che non c'erano eredi. Vabbè, non importa. Cosa abbiamo qui con te? Cosa hai? Sei buono nell'intrigo? Nell'erudizione? Buongiorno. Dice, costi in prestigio per aumentare l'autorità della corona. Gli altri personaggi sono più propensi ad accettare quando tu chiedi la conversione. Allora, potrebbe essere utile perché... Punteremo probabilmente a conquistare l'Italia, principalmente. Quindi avremo molti cattolici da dove convertire. Complotti di intrigo. Però l'intrigo potrebbe tornarci utile se volessimo prendere il controllo di tutto l'Emirato. Giusto? Perché noi ora abbiamo solo l'Agrigento, non abbiamo il controllo di tutto l'Emirato di Sicilia. Vediamo. Però, filosofo geniale. Questo ci dà molta erudizione. Esperienza mensile più 40%. Allora, io qua come me la giocavo? Potrei scegliere... Dobbiamo scegliere una moglie. Qualcosa di decente. Possibilmente che abbia... Buono... Quante più... Diciamo... Skill possibili. Tagasa. Dov'è scegliere il caso di Tagasa? Non vedo niente. E madonna, sono... Questi qua sicuramente non ci aiutano. Quindi... L'idea di lasciar perdere per ora. Allora, torniamo nella schermata. L'alleanza non ci interessa. Noi qua abbiamo detto abbiamo... Facciamo un po' schifo in questo qui. Cerchiamo qualcosa che possa completarci, in qualche modo. Fede musulmana organizzata. Il sufrismo. Questo gioco non si smette mai di insegnarmi cose. Tra l'altro noi abbiamo anche delle rivendicazioni. Cultura tribale. Così mi pare di capire. Ah no, è berbera. Ok. È l'attuale tribale. Ok. È l'onorca. Asciarismo. Noi siamo asciarismo. Pure noi. Il fervore a che serviva? È più facile per un sovrano. Creare nuove fedi per mano propria. Incrementa la probabilità che le contee e i personaggi si convertono ad altre fedi. Un fervore alto incrementa la velocità di conversione di una contea. Ok. Un fervore a fedi più larga. Condurre i grandi guardi santi e diminuire il fervore. Ok, va bene. D'ogni modo. Cerchiamo di prendere una della nostra stessa religione. Per non crearci troppi problemi. E magari con qualche trait interessante. Qualche tratto della personalità interessante. Arrogante. Più prestigio. Coraggiosa. Diplomazia. Il fatto che tu sia coraggiosa non ci interessa. Perché non punto a mandare mia moglie in guerra. Qua cosa abbiamo? Dirigente. Amministrazione e diplomazia. Siamo abbastanza bilanciata. Potrebbe essere utile. C'è qualcuno che ha il tratto geniale queste cose qua? Perché sono cose che poi possono essere ereditate. Gigante. Se avessimo qualcosa. Se puntassimo molto a combattere. Però non lo so. Vediamo se... Vediamo. Allora facciamo per la somma di tutte le abilità innanzitutto. Cosa c'è di meglio? 33 anni. Avita. Arrogante. Coraggiosa. Eccola qua. Vedi? Ci abbiamo. Geniale. 37 anni. Magrebina. Ok. Ambiziosa. Onesta. Lussuriosa. Fertilità. Più 25%. Io andrei con lei onestamente. Vi ho la proposta. Ok. Anche questo è fatto. Poi. Cosa abbiamo qui? Vuoi dichiarare delle guerre? È la madonna. Sì. Tutti eserciti. Vabbè. Sì. La maggior parte comunque sono tizi qua. Tic cattolici eccetera. Tipo anche. Hanno eserciti più forti di me a Napoli. Cioè. Io mi ricordo che con Napoli non è un esercito praticamente. Però noi abbiamo solo 232 persone quindi. Sì. Va bene. Allora. Detto questo. A livello militare. Cosa dobbiamo fare qua? Abbiamo poche entrate. Quindi ci conviene. Cominciare a lavorare. Su. Accetto volentieri la vostra proposta di matrimonio. Eccellente. E ci siamo sposati. E fin qua. Tutto bene. Cioè il mio figlio si è sposato più che altro. Io avevo già una moglie. Va bene. Ottimo. Quindi puntiamo con il nostro figlio. Sicuramente tutto migliorerà. Vedete. Noi siamo molto eh. Il mio figlio è molto meglio. La moglie che c'è a lui. Sì. La moglie è 37 anni. Effettivamente per il figlio. Non avrei forse dovuto. Però se farlo dei figli va benissimo. Il punto è fargli fare dei figli. Il più possibile. Allora. Detto questo. Vediamo se mi ricordo come si fa. Qui. Dobbiamo costruire qualcosa di interessante. Adesso. Il castello non lo aumentiamo. Cosa possiamo costruire? Mi sa che bisogna aspettare per forza il denaro. E poi andrei ad aumentare le tasse. Quindi. Di conseguenza. Più 50 leve. Quanti buoni abbiamo qui? Leve 183. Faris 5. Faris è un tipo generale immagino. I cavalieri. Ok. Sì. E fanti leggeri. Che sembrano le truppe. Quelle regolari. Avremmo bisogno in realtà. Di aumentare anche il numero di uomini. Soprattutto se vogliamo espanderci militarmente. Però inizialmente. Direi di partire con le fattorie e campi. Puoi andare su qualcosa veramente di militare. Nel senso che. 125 leve con le caserme e quant'altro. Quindi aumentiamo un po' la velocità nel frattempo. Qui già si stanno massacrando. Con l'impero bizantino. Ok. Niente che ci interessa. Rimaniamo a 3 di velocità. Che è abbastanza veloce. Ma non impazziamo. Allora. Noi che rapporti abbiamo qui in giro. Tu sei l'emiro. Quindi tu sei il più potente qui sull'isola. Hai 1080 uomini. Emiro. Sceccato di Palermo. Sceccato di Malta. Potremmo anche puntare. A prenderci piccoli scecchi. Quale impero bizantino sta combattendo proprio contro di lui. A quanto pare. Perché sei in guerra con. In difesa contro il re Luis III. Il minore d'Italia. Nella riconquista di Bari. Ah perché tu hai anche questo territorio. No. Semplicemente sono unito alla guerra. Immagino. Perché è alleato appunto con l'emiro. Saldan. Ok. Quello. Insomma. Ci siamo capiti. Ok. Quindi loro combatteranno qui. Si indeboliranno. Tutto potrebbe andare a nostro vantaggio. Sebbene noi siamo. Sì. Ci stiamo conquistando anche noi purtroppo. Perché siamo sotto di lui. Però. Non possiamo farci nulla. Speriamo la guerra finisca in fretta. In modo tale da poterci sviluppare in pace. La cosa bella. E la bestemmia allo stesso tempo di questo gioco. Che dipende anche dagli altri. Diciamo. Però poi risulta interessante. Il mio magico. C'è icco. Se devo parlare bene di voi. Siete. 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 E miro. Isli. Ci sei. Dove vivi. Qua dall'altra parte. Ah. Sei proprio qui. Cos'è? In Tunisia. Qua mi sembra. Non riesco a vedere bene. Aumentiamo. Unendo. La. Reazione. Guadagniamo rispetto. Sì rispetto. Guadagniamo prestigio. Ma sì. Teniamocelo a buono. Che non sia mai. Potrebbe essere avvicinato. Nel prossimo futuro. Insomma. Qui aumentiamo un po' la velocità. C'è. Vi prego. Vi imploro. Scegli il primo argomento. Ah sì. Qua ci si chiama anche. Magari. Fagli girare i maroni. E cose simili. Le voci a corte. Giusti del Galateo. Buttiamoci. Qui cosa è successo. Il tuo consigliere. Constanzia. È morto. Ah. È vero. I consiglieri. Allora. Qualcuno buono come spia. Mio figlio è il migliore. Lo raccomandiamo. Sebbene dovrebbe concentrarsi più sulla sede. Cose varie. Ups. Abbiamo. Abbiamo ciccato in bomba. Ma non importa. Organizzare leve. Rinforzi. Mantenimento. E farei questo. Mantenimento uomini d'arma inferiore. Per adesso non dobbiamo combatterne nulla. Qui cosa facciamo. Prestigio. Opinione dei vassalli. Opinione del vassallo diretto. Va bene. Penso vada bene. Assisti il sovrano. Sì. Assistiamo il sovrano. Come amministratore fai schifo. Possiamo cambiarti? Vi direi proprio di sì. Mettiamo. Un ospite. Lo reclutiamo a corte. Lo mettiamo a gestire. I nostri affari. Secondo me sì. Nel lungo termine sicuramente. Ne beneficeremo. Insomma. Addirittura tocco di ambizioso. Dirigente. Tocco di mita. Cioè voglio dire. Più 10% tasse. Mentre lo sviluppo. Ok. Va bene così per ora. Mi sembra abbastanza decente. Come. Ossiglio di amministrazione. Mettiamola così. Basso controllo. Della contena di aggrigento. Eh vabbè. Qua ci stanno conquistando eccetera. Per quello c'è il basso controllo. Dobbiamo solo aspettare adesso il denaro. Il denaro. Non so perché l'ho pronunciato in quel modo. Il denaro. Ehm. Qui come si faceva a cambiare la modalità della mappa. Diciamo come appare. No sto aprendo di tutto. Qua sotto. Oh là. Perfetto. Almeno si capiamo bene dove siamo col territorio e quant'altro. Un caduto di Calabria. Ah no aspetta. Queste sono le cose. No io voglio quello. Cos'è? Quello politico? Come si chiama? Ah no è così forse i reami. All'edagli e scambiamo queste lettere. Dovremmo mettere forse una moda che mi fa venire meglio i territori anche quando sono più zoomato. In frattempo 100 di oro grazie al tizio che abbiamo reclutato. Al nuovo amministratore. Fanno le opportunità di investimento. Quindi questo 100 di oro possiamo sfruttarlo al dovere adesso per costruire cose vale. Tra tutte le buffonate a cui io abbia mai dovuto assistere negli ultimi sforzi di valere abbastanza di migliorare le mie relazioni con i miei vicini. Il mio cancelliere è buono a nulla. Ha riconosciuto ufficialmente la vendicazione di Shikko Sufio sul sciccato di Grigento. E tu chi cazzo sei? Dovevo curare le uccide, non dei nemici. Ah ok, quindi praticamente abbiamo dato quella possibilità di vendicare il nostro territorio. Trova un coniuge. Coniuge secondari. Ah ok, giustamente. La poligamia se non era si dice. Ok, questo è un aspetto dei musulmani che io non ho mai visto. Quindi vediamo cosa possiamo fare. Vorrei che migliorassimo in roba tipo amministrazione per esempio. La migliore sei tu, ma a livello di religione non ci siamo. Potrei andare su di lei che è più giovane. E' anche vero che forse ce ne possiamo anche fregare. Il badismo è sempre religione fede musulmana. Di un altro tipo. Che Allah ha creato ogni movimento che gli esseri umani hanno diritto... Ok, qua c'è una differenza che poi dovrò leggermi. Però, vediamo. In realtà possiamo lavorare su tanti eredi. Se avremo quattro mogli, una roba del genere. E che è il terzante. Allora, direi Eleonorca. Poi direi... Lei mi piace più che altro perché ha... Questo. Niente di troppo assurdo qui. Però è peccaminoso per i baditi. Tu cos'hai qua disonesta? Aia. Ma se ce le freghiamo altamente. Cosa vuoi dire? E te vuoi desiderci una potenza... Potente alleato? Lo facciamo per alleanza. Vediamo se dovrebbe accettare. Questo ancora ci schifa. Bene. Tutti i nostri sforzi sono vanissimi a dir poco. E in tutto questo io volevo costruire qui nella città. Giusto? Quindi possiamo qui nella pontea... Cattanissetta. Vostra proposta di matrimonio. Grande. Inserente sotto occupazione. Ok. Pure lei si sposa con noi. Perfetto. Eccellente. Abbiamo tutti i coniugi. Il nostro figlio è già sfornato. Cioè... La moglie. Ha già fatto un figlio. Il nome mi va bene. Come un membro della famiglia. Che vuol dire? Ah, ok. Va bene. Non importa. Sì, va bene. Cos'è? Un maschio? Perfetto. Siccome abbiamo fatto un figlio. In teoria dovremmo avere la possibilità di... Gestire il suo orientamento qui. Il focus. Su cosa vogliamo farlo focalizzare? Il video è sull'amministrazione per ora. Gli diamo anche appunto un... Così c'è... No, matrimonio no. Vorrei affiancargli qualcuno per... Per assistere ai suoi studi e cose varie. Ma forse si fa dopo. Non mi ricordo bene. Vedremo. Qui nel frattempo invito nel consiglio. Giusto che tu abbia la voce nel mio consiglio. Cancelliere. Sì, perché no? Va bene. Essere cancelliere del nostro emiro. Ok. Quale il frattempo? Possiamo... Via sta roba. Soprano confinante ha vinto la guerra. Eh, vabbè. E quindi? 75 di prestigio. Grazie alla moglie. Comandante promosso. Comandante promosso. Vabbè interessante se riuscissimo a fabbricare qualcosa contro di te. Mio piccolo amico. Oddio, omicidio. Mi sembra anche un po' eccessivo. Ehm... Ehm... Come si fa quell'incarico? Questo non me lo ricordo. Ehm... Papapapapà. Il consiglio. Devo mandare te. A far qualcosa. Ok. Fabbrica vendicazione su una contea. Perfetto. Lo facciamo su un messina. Sarebbe carino spanderci lì. Non abbiamo tanti uomini noi. Però... Tanti uomini abbiamo. 323. Loro... Ne hanno... 132. Dovremmo riuscire a vincere senza problemi. Tutti i personaggi hanno una fede che a stavolta... Sì, ok. Per ora non voglio leggere la lezione. Dovrei più o meno ricordare. Ehm... Così, perché no? Stiamo solo lavorando su lamentare la nostra reputazione e non altro. Ah, quindi fa tempo e possiamo costruire. Costruviamo... Nulla perché ci mancano pochissimi denari. Però forse ci riteniamo per... Per la vendicazione. E per pagare le truppe nella guerra. Procedi... Quindi abbiamo... Abbiamo... Ok, quindi adesso noi dovremmo riuscire a dichiarare... Per la guerra. Sì. Aspettiamo... Per quanto tempo abbiamo il casus bellis? Non lo so. Non so se aspettare un pochino. Perché il denaro è quel che è, insomma. Aspettiamo un altro po'. Tanto non credo che loro riusciranno ad avere molti più uomini di noi. A prescindere, quindi... Mi riempie di orgoglio vedere mia figlia non più babbina ma adulta. Ok. Uh, tocco di mida. Grande. 5 stelle. Quel tratto è molto buono. Da quanto ricordo io. Emilio Muhammad è sotto attacco da parte del leader Fidiluco. Ehm... Ok, salutamelo. Non è un mio problema. Leva sta roba. Tutto questo dobbiamo provare già a combattere sto tizio? Loro hanno alleati. Shake. Qua giù. Eh, l'alleanza... Noi abbiamo alleati? Sì, quanti uomini? Ah, lui è un sacco di uomini, cavolo. Però deve arrivare da noi, quello è il problema. Quindi... Mh, mh, mh... Non ho ottenuto in considerazione quell'aspetto, effettivamente. Ok, lì ho visto innanzitutto... Però, secondo me, riusciamo a farcela. Vediamo. Vediamo gli eserciti. Assaltiamo subito. Vediamo se riusciamo a fare una guerra lampo, insomma. Beh, adesso non perdiamo neanche denaro, quindi... Ottimo. Se riusciamo a conquistare questo territorio, più che arrivino i suoi alleati... È fatta, diciamo. Probabilmente vincerai, ok? Allora. Ah, stiamo influenzando questo tizio. A cosa potrebbe piacere gli? Indregno, sì. Nella sua risposta, il mio signore, eh... Mi ha chiesto di smettere di fare indagini di tessi personali. Ok, abbiamo felato. Lì, abbiamo vinto la battaglia. Molto bene. Eh, sì, ti chiamo in guerra. Vieni subito, a distante. Ok, tempo dell'assedio. Lui arriva, giusto? Naturalmente veniremo in questa guerra. Ok, cos'è qui? Quattro giorni potenziare battaglia. Ah, è arrivato il suo amichetto qua a rompere i maroni. Ok, questo è un problema. Quindi ripieghiamo a casa finché non arriva il nostro alleato. 92%. No, mettiamo qui e basta la reputazione per ora. Non siamo perdendo denaro, quindi per ora ci va bene così, ribadisco. Un nuovo vantaggio per lo stile di vita diplomatica. Tratto diplomatico, più 3. Va bene, abbiamo maxato praticamente l'albero della diplomazia. Molto bene. Se il mio nevato arrivasse... Questo sarebbe tutto più semplice. Con lui sicuramente riusciamo a vincere. Eccolo qui, è lui. È lui, è lui, non è lui. Sì, è lui. Allora, seguimi amico mio. Andiamo a conquistare Messina. Ok, perfetto. Dovremmo riuscire a conquistare in tempi brevi e a vincere la guerra di conseguenza. Continuano a provarci a difendere ma senza successo. Non penso... Ok, non ce la fanno neanche. Ottimo. Bene. Imponire richieste. Quindi... Rilasciamo gli ostaggi e otteniamo lo scieccato di Messina e quindi il Vilaia di Cefalu e la moschetta di Catania. Ok, ok. Perfetto. Così sia. Forse tu essere cucito vivo nel ventre di un cammello morto. Ok. Però stai tranquillo, non ti agitare. Bene, ci siamo già ingranditi. E a quanto pare... Ma io non sono più sotto di lui. Sono proprio una cosa a parte. Comunque, adesso ci fermiamo qui con questo episodio, ragazzi. Siamo partiti bene. Abbiamo già conquistato un territorio. Da piccolissimi diventeremo grandi, ne sono certo. Comunque, spero vi state divertiti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.